L'investimento in azioni di aziende che forniscono dividendi è una strategia interessante e sicuramente efficiente per poter generare reddito passivo, ma ovviamente una domanda sorge spontanea. Quanto capitale serve per generare una specifica somma di reddito mensile grazie ai dividendi? In questo video affronteremo proprio questo argomento perché la realtà potrebbe essere diversa da ciò in cui molte persone credono. Innanzitutto partirei con il dire che indipendentemente dal fatto che tu stia cercando di guadagnare 500, 1000 o anche 2000 euro in dividendi ogni mese vanno valutati i diversi fattori chiave. Ma andiamo per step, quindi prima di tutto iscriviti al canale e metti un mi piace al video per sostenerlo in modo da rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Il rendimento da dividendi è un punto di partenza per capire quanto dovrà investire per raggiungere un obiettivo di reddito mensile desiderato. Il rendimento si calcola dividendo il pagamento annuale dei dividendi per il prezzo corrente dell'azione. Per esempio se un'azione paga 3 euro annuali per ogni azione e il prezzo per azione è di 100 euro il rendimento da dividendi sarà del 3%. Un rendimento più alto significa più reddito per ogni euro investito, ma allo stesso tempo potrebbe anche indicare un rischio maggiore. Le azioni con rendimenti superiori al 4 o 5% potrebbero essere insostenibili o appartenere a società in difficoltà finanziarie, ma in alcuni casi potrebbe anche significare che l'azienda in questione ha più liquidità del necessario ed ha quindi deciso di remunerare tutti i propri azionisti. In ogni caso la maggior parte degli esperti raccomandano di concentrarsi su azioni con rendimenti tra il 2 ed il 4% per bilanciare reddito e sicurezza. Le aziende di alta qualità che pagano dividendi, come quelle incluse negli elenchi dividend aristocrats e dividend kings, offrono generalmente rendimenti di questo intervallo, mantenendo la stabilità dei dividendi nel lungo termine. Anche se rendimenti da dividendi elevati possono sembrare attraenti, non sempre rappresentano un vantaggio. A volte un rendimento molto alto è il risultato di un calo significativo del prezzo delle azioni, il che potrebbe indicare problemi non indifferenti. Se un'azienda è in difficoltà potrebbe non essere in grado di continuare a pagare dividendi così alti, portando a tagli nei dividendi e deludendo gli investitori che fanno affidamento su quel reddito. Perché bisogna ricordare che i dividendi non sono obbligatori e ogni azienda può decidere se distribuirne oppure no. Inoltre, se un'azienda distribuisce una gran parte dei suoi profitti, potrebbe non avere risorse sufficienti per reinvestire nella crescita futura. Pertanto, mentre i dividendi elevati possono essere allettanti, è importante verificare se siano sostenibili prima di investire. L'idea principale dell'investimento in dividendi è creare una fonte stabile di reddito, facendo crescere anche il proprio investimento. L'obiettivo non è solo tenere il passo con l'inflazione, ma aumentare la ricchezza e il potere d'acquisto nel tempo. Si tratta di bilanciare un reddito regolare con la crescita del capitale oltre il tasso dell'inflazione, per migliorare la propria situazione finanziaria a lungo termine. Ora però, cerchiamo di andare al nocciolo della questione, provando ad utilizzare anche qualche numero. Ad esempio, prendiamo un generico ETF che distribuisce dividendi per un ammontare del 3,5%. Per guadagnare 500€ al mese con questo ETF è necessario un investimento di circa 172.000€. Per guadagnare 2.000€ al mese servirebbero circa 700.000€ e per 5.000€ al mese circa 1,7 milioni di euro. Questi sono numeri importanti, ma investendo in un fondo come questo i dividendi non sono l'unica forma di profitto. Infatti anche il prezzo ed il valore delle azioni presenti al suo interno potrebbero aumentare molto nel tempo, permettendoti quindi di guadagnare sia dai dividendi che potresti anche reinvestire per aumentare di non poco la tua ricchezza durante il tempo e dallo stesso tempo far aumentare il valore del tuo ETF durante gli anni. Proprio per questo motivo è di vitale importanza non soffermarsi in modo eccessivo solamente sulla distribuzione dei dividendi, perché esistono molti ETF che replicano l'andamento dell'SMP500 che semplicemente distribuendo dei bassi dividendi, grazie alla loro crescita quasi esponenziale, hanno permesso a molte persone di guadagnare delle vere e proprie fortune nel corso degli anni. Ovviamente in questi casi è importante capire la vostra propensione a rischio, soprattutto se siete disposti ad avere revisioni a lungo termine per poter sfruttare a pieno l'interesse composto, perché bisogna ricordare che quando si investe una leva fondamentale da considerare è proprio il tempo. In ogni caso, per calcolare quanto investire per generare redditi mensili differenti, supponiamo un rendimento medio del 3%, quindi per guadagnare 500 euro al mese, che sarebbero circa 6.000 euro all'anno, dobbiamo dividere questa cifra per un rendimento del 3%. A questo punto ci risulterebbe che l'investimento richiesto sarebbe di circa 200.000 euro. Per 2.000 euro al mese, ossia 24.000 euro annuali, servirebbe un investimento di 800.000 euro, e per 5.000 euro al mese, ossia 60.000 euro all'anno, sempre con un rendimento del 3%, sarebbero necessari circa 2 milioni di euro. Queste cifre ovviamente sono stime e possono variare in base alle fluttuazioni di mercato, ai tagli dei dividendi o ai dividendi reinvestiti. Con rendimenti più elevati, come ad esempio il 4%, l'investimento necessario diminuisce significativamente. Ad esempio, per generare 2.000 euro al mese, un rendimento del 4% ridurrebbe l'investimento necessario a 600.000 euro, anziché 800.000. Tuttavia, puntare a rendimenti elevati può essere rischioso, poiché le società che offrono dividendi molto alti potrebbero affrontare sfide finanziarie o essere costrette a ridurre i dividendi durante periodi di crisi economica, esattamente come dicevamo poco fa. D'altro canto, optare per azioni più sicure, con rendimenti più bassi, richiede un capitale di base significativamente maggiore. Però è fondamentale cercare di non pensare a queste grandi cifre, soprattutto perché comprendo che possano scoraggiare molto quando ci si pone un determinato obiettivo e lo si vede come irraggiungibile. L'obiettivo, infatti, non deve essere quello di guadagnare 500 o 1.000 euro in dividendi da domani, ma piuttosto di cominciare, mattone dopo mattone, a costruire un meccanismo che, seppur lentamente, comincia a lavorare al posto nostro, anche mentre noi stiamo dormendo. Vedere i dividendi accreditati sul proprio conto è sempre un momento gratificante, come ricevere una piccola busta paga per gli sforzi di investimento. La tentazione di spendere quel denaro extra, inoltre, potrebbe essere veramente molto forte, ma per chi punta alla crescita finanziaria a lungo termine, la chiave è resistere alla tentazione e reinvestire i dividendi nel proprio portafoglio. Così facendo, non solo si conservano i guadagni, ma si acquistano più azioni generando a loro volta ulteriori dividendi. Questo crea un ciclo virtuoso di rendimenti composti che porta a una crescita esponenziale degli investimenti nel tempo. Investire un gioco a lungo termine, anche se i dividendi potrebbero sembrare di scarsa importanza inizialmente, possono fornire una spinta mentale che aiuta a rimanere concentrati. Ricevere quei pagamenti regolari, anche senza necessariamente spenderli o reinvestirli, rappresenta una prova concreta che gli investimenti stanno funzionando, generando reddito senza dover vendere nulla. Questo flusso costante di denaro può offrire un senso di sicurezza finanziaria, incoraggiandoti a mantenere la tua strategia anche nei momenti di incertezza del mercato, e magari nel corso di 10, 20 o anche 30 anni potrebbero renderti molto ricco e cambiare drasticamente il tuo stile di vita e quello della tua famiglia, così come quello delle generazioni future. In conclusione, l'investimento in dividendi con il reinvestimento degli stessi può portare a una crescita accelerata del capitale e del reddito, trasformando obiettivi apparentemente difficili, come 500, 2000 o 5000 euro al mese, in traguardi irraggiungibili. Ovviamente nessuno può dire che questo sia semplice, e dipende anche molto da quanto si riesce ad investire ogni singolo mese, ma rimane il fatto che questi obiettivi sono perfettamente raggiungibili, seppur a fronte di molti sacrifici o comunque di molti anni. In ogni caso, se sei arrivato fino a questo punto del video, sono sicuro che tu sia già sulla strada giusta per il raggiungimento dei tuoi obiettivi finanziari, e ti invito a cliccare sul video che in questo momento ti sta comparendo in sovraimpressione, perché sono sicuro che ti piacerà. Inoltre non dimenticarti di lasciare un bel mi piace e di iscriverti al canale per rimanere aggiornato. Grazie per la visione.